buongiorno ragazzi buongiorno oggi sono in vena di regali quindi seguite il video che vi darò una bellissima previsione da mettere in campo per soli sei colpi non parliamo di 24 colpi ma sei colpi solo due terzine su bari cagliari prima di darvi la previsione vi ricordo che sono aperte le prenotazioni per l'otto per te di marzo il costo è di soli 10 euro fino a scusate il mensi software l'otto per te di aprile a soli 10 euro logicamente questo prezzo lancio come ogni mese e fino al 30 marzo quindi potete acquistare il mensi software l'otto per te di aprile a soli 10 euro entro il 30 marzo dopo il 30 marzo il mensi software costerà 30 euro ricordo che il mensi software è disponibile sia in versione pdf sia in versione software bene detto questo ragazzi vi ricordo a tutte le nuove persone che c'è una super offerta abbonamento una super offerta pagate due mesi ne ricevete tre ed in più in più ragazzi riceverete il metodo in regalo facendo l'abbonamento per tre mesi ok mentre chi è già abbonato ripeto chi è già abbonato basta rinnovare per il mese di aprile e riceve il metodo in regalo perché un metodo feteltà chi è già abbonato con me da diversi mesi rinnovando ad aprile riceve anche il metodo in regalo ieri come sapete c'è stata una strage nel gruppo abbonati tutti in cassa c'è stato anche il mensi software lotto per te di marzo che ha centrato lambo in terzina la previsione dell'otto per te di marzo si continua perché non è uscita lambata quindi va continuata quella previsione ed inoltre vi informo che domani tutti gli abbonati al canale riceveranno fare il video per gli abbonati al canale logicamente io il video per gli abbonati al canale lo faccio il sabato ogni sabato vi do l'aggiornamento poiché adesso è uscito anche la previsione che avevamo gli abbonati ce l'avevano avevano la previsione anche del mensi software lotto per te quindi non potete smentirmi che ieri è uscito il bellissimo ambo in terzina bene detto questo ragazzi non voglio prolungarmi oltre non voglio fare video lunghissimi voglio farvi questo bellissimo regalo io spero di dare gioia a tutti spero in un terno però se esce l'ambo in terzina io credo che voi vi accontenterete andiamo a vedere subito la previsione ed ecco la previsione ragazzi questa previsione solo sei colpi bari caieri per ambo eterno 17 18 35 35 36 55 sono due terzine da giocare per ambo eterno chi vuole logicamente può unire anche le due terzine in lunghetta cioè mettiamo tutte e due le terzine in lunghetta diventa una cinquina come vedete perché abbiamo il 35 presente sia nella prima sia nelle seconde terzine quindi la lunghetta è 17 18 35 36 55 per ambo eterno e sorti superiori ok bene io con questo finito vi lascio qui il mio whatsapp per informazione sia sull'abbonamento per tre mesi in offerta sia per il lotto per te per chi vuole prenotare il lotto per te di aprile a soli di cero vi ricordo che dovete prenotarlo entro il 30 marzo per avere la super offerta lancio a 10 euro altrimenti dopo il 30 marzo purtroppo il mensi software costerà 30 euro ok ecco qua vi do subito cancelliamo questo vi do subito il mio whatsapp allora 3 5 1 89 0 11 56 questo è il mio whatsapp ok per qualsiasi informazione per qualsiasi richiesta eccetera potete contattarmi poi mi raccomando in caso di vincita della previsione che vi regolate inviate gli scontrini vincenti la foto non degli sconti gli scontini le andate a incassare voi la foto dello scontrino vincente a questo mio numero whatsapp con questo finito ragazzi buona giornata a tutti e buone vincite sempre con rosario gallo e con previsione vincenti punto it grazie a tutti